Volevo raccontare con la sua stessa intensità e amore, in modo forte e marcante, i miei matrimoni, ma avrei dovuto fare questo, raccontarlo dall'interno. Non farlo più come mi avevano insegnato e come avevo fatto fino a quel momento, ma in modo completamente nuovo e davvero molto speciale. Dovevo quindi trovare il modo per rompere la barriera tra sposo e fotografo. Tra le famiglie, gli invitati e me. Ma come?